Ciao e benvenuto su Psynel, il podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Gennaro Romagnoli e ti do il benvenuto alla 127esima puntata di questo podcast. Oggi parliamo di mind wandering, cioè di vagheggiamento mentale. Ragazzi, lo dico con tanto tanto orgoglio, Psynel è stato uno dei primi siti italiani a parlare di questo argomento, in particolare della default mode network e dei legami tra la mente che vaga ed alcune funzioni cognitive, in particolare con la mia passione per gli stati modificati di coscienza, quindi per l'ipnosi e poi per la meditazione. Oggi voglio farti partecipare ad una piccola diatriba molto molto interessante e cercheremo di districarla, rispondendo ad una domanda davvero tanto importante che recita più o meno così. Ma lasciar vagare la mente fa bene o fa male? Bene, iniziamo! Oh, molto bene! Allora, com'è andata la settimana? Hai seguito i podcast precedenti? Come sai, siamo alle porte dell'estate, per cui cercherò di rendere questa puntata, come quelle estive, leggermente più brevi. In particolare in questo momento, mentre stai ascoltando, io sono in vacanza. Oddio, non un'enorme vacanza, una settimana di vacanza dove vado a trovare i miei genitori, i miei amici, i miei cari in Liguria, dove sono nato e cresciuto. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno messo mi piace su iTunes, che hanno messo mi piace, che hanno condiviso i miei contenuti e che si sono iscritte alla fanpage del podcast di Psynel. Bene, detto questo, devi sapere che ho preso questo articolo sul vagheggiamento della mente da Psicologia Contemporanea e ci tengo a sottolinearlo perché da poco tempo è uscita, finalmente si è resa pubblica la notizia, che il mio caro amico Luca Mazzucchelli è diventato finalmente il direttore della rivista di Psicologia Contemporanea e sono molto contento ed orgoglioso allo stesso tempo di potertelo annunciare. Io e Luca sono diversi anni che ci sentiamo, che abbiamo delle collaborazioni seppur a distanza, per cui per me è proprio un onore vedere che una rivista così prestigiosa è finita nelle mani di un giovane così bravo e capace. Bene, dopo questa sviolinata a te Luca, allora iniziamo con il podcast di oggi. Allora, questo vagare della mente fa bene oppure fa male? Le prime volte che avevo sentito parlare di questo vagheggio mentale l'avevo subito rapportato alla transipnotica così come viene descritta da Milton Erickson, una trans che facilita i processi associativi del cervello, cosa che poi è stata confermata dagli studi più recenti su questo mind-wondering. Poi però qualcuno ha alzato la mano e magari dice ok, ma la meditazione non fa esattamente il contrario, cioè non si invitano le persone a notare questo vagheggiamento e a tornare sul proprio focus d'attenzione? Ovviamente la risposta è sì. Per questo io ed i miei colleghi ci chiediamo è bene oppure male lasciar vagare la mente? Come prima cosa devo dirti subito che in realtà meditare non significa evitare di vagheggiare, ma semplicemente rendertene conto ed esistono pratiche di meditazione dove ci si limita a guardarlo, ad osservarlo, senza cercare di fermarlo oppure addirittura di bloccarlo. Questo è diverso se ci pensi dal fatto di dire evita di far vagare la mente, ma significa piuttosto renditi conto quando la tua mente inizia a vagare. Questa è la risposta che mi sono dato io personalmente per anni, perché è ovvio che il mind-wondering è utile. Mi capita molto spesso di essere sovra pensiero e di avere ottime idee. Semplicemente lascio che quel computerino faccia le sue elaborazioni e poi che mi dia un risponso. Fidarti del fatto che quel computerino sta lavorando per te è fondamentale, però esistono casi dove è evidente che il vagheggio mentale risulta dannoso. E mi riferisco a tutti quei casi di iper-ruminazione mentale, quelle che a volte chiamiamo seghe mentali. Ma queste non sono dannose di per sé, perché come dicevamo, non è dannoso che la mente vaghi, è dannoso quando iniziamo a credere a quelle idee che ci passano davanti agli occhi, a quelle ipotesi, e iniziamo a dargli un carattere di realtà piuttosto che di simulazione. Ok, può darsi che qualcuno non si costruisca dei castelli e che invece sia lì a rimuginare su qualcosa di reale, di realmente negativo, qualcosa di accaduto nel passato. Perché lo facciamo? Perché lo facciamo nonostante sia passato, no? Questa è la domanda. A quanto pare questo tipo di pensiero è lo stesso che risolve i nostri problemi pratici, quelli di tutti i giorni, come scegliere un'auto, decidere le vacanze, superare un ostacolo, eccetera. Ma come abbiamo detto tante volte, alcune cose non si risolvono pensandoci e ripensandoci. Bene, approfondiremo bene questo tema parlandoti del podcast passato dedicato al fare versus essere, dove descrivo molto bene la differenza tra un pensiero risolutore ed il pensiero invece della meditazione. Ora, a districare questa matassa arrivano gli studi che dimostrano che esistono due tipologie di mind-wandering e sono quelli pubblicati dalla De Beni in Psicologia Contemporanea. Una è intenzionale, dove tu decidi di fantasticare su qualcosa in modo attivo, lasciandoti trasportare dai pensieri e dalle associazioni mentali ed uno non intenzionale. Quest'ultimo, quello non intenzionale, sarebbe associato al forti livelli di stress, alla stanchezza, all'assunzione di alcol, quando siamo poco motivati in quello che stiamo facendo ed è tipico delle persone tendenzialmente tristi e o depresse. È esattamente questo tipo di vagheggiamento non intenzionale, quello più dannoso, a quanto pare, e guarda caso, è il vagheggiamento che viene ridotto notevolmente dalle pratiche di consapevolezza, come la mindfulness. Quindi abbiamo finalmente una piccola risposta. Lasciar vagare la mente fa bene o fa male? La risposta sta sia nella qualità del vagheggio, cioè sei involontario oppure volontario, e sia nella nostra capacità di autoregolazione, cioè di renderci conto di quel vagheggio ed eventualmente tornare a fare quello che stavamo facendo prima. Questa è l'autoregolazione, accorgertene e tornare a fare quello che facevi prima. Attenzione, la ricerca non dice che bisogna evitare di vagheggiare, ma che invece la differenza sta ancora nella capacità di renderti conto. Di nuovo, la consapevolezza massima, come sai, se mi segui da un po' di tempo, non la ottieni quando non stai pensando a nient'altro se non al tuo focus d'attenzione, ma la ottieni quando ti accorgi di distrarti. Lì è il top della consapevolezza. Quindi, come dicevamo da sempre, come diciamo da sempre, restare presenti non significa scacciare via i pensieri intrusivi, anche perché, a quanto pare, più cerchi di scacciarli e più ritornano, ma significa invece riuscire a renderti conto. Ora, se non mi hai mai sentito parlare di questa roba, potresti pensare a cosa possa servire distinguere questi due tipi di vagheggiamento. E sono qui a dirti che invece è molto importante. Pensa come sarebbe bello se attraverso una dolce metafora una maestra delle elementari fosse capace di spiegare questa cosa qua ai bambini. Immagino una cosa del genere. Bene, bambini, quando vi chiedo di stare attenti, dovete sapere che il vostro computer che avete tra le orecchie e sappiamo che i bambini sanno molto più dei computer dei loro maestri, dopo un po' di tempo questo computer inizia a pensare ad altro, inizia ad orientarsi verso altre direzioni. Non c'è alcun male in questo. Quando lo notate, tornate gentilmente ad ascoltare quello che vi stavo dicendo. E se per caso vi siete persi troppo, alzate la mano, dichiarate di esservi persi e io cercherò di rispiegarvelo. Lo so, lo so che i bambini furbetti potrebbero utilizzare questo come una specie di scusa, ma se lo si spiegasse proprio bene, adattandolo alla loro età, mostrandogli che devono essere autocompassionevoli e mettendosi in gioco quando notano di aver perso il filo, sono certo che potremmo fare un super regalo alle generazioni future, allenandole in quel difficile compito che è restare attenti davvero, restare nel presente, allenare davvero la propria attenzione per come funziona e non per come noi pensiamo che dovrebbe funzionare. Non so se mi spiego, se alle elementari te lo ricorderai benissimo, la maestra o il maestro che diceva devi stare attento, ma che cosa vuol dire stare attento? Lo stesso ovviamente vale per gli adulti che magari fanno lavori ad altissima concentrazione, anche lì serve una specie di rieducazione all'attenzione. Dalle ricerche a nostra disposizione sappiamo che il vagheggiamento mentale è associato con le emozioni negative. Se ricordi, qualche anno fa ti avevo parlato di uno studio fatto attraverso un'applicazione del cellulare, uno studio gigantesco fatto su milioni di utenti ai quali era stato chiesto di valutare a cosa stessero pensando più volte durante il giorno nella loro quotidianità. Ebbene, chi era perso nei propri pensieri in modo involontario era anche chi aveva maggiori problemi a livello emotivo o era piuttosto perso in pensieri potremmo dire negativi. Sappiamo bene che esistono diversi legami anatomo-fisiologici cioè tra quello che abbiamo dentro il cervello e come funziona il cervello fra attenzione ed emozione. Grazie agli studi di Richard Davidson e di tanti altri ormai sappiamo con certezza che la regolazione dell'attenzione è la stessa in grado anche di regolare l'emotività. E sappiamo quanto sia fondamentale avere un'educazione emotiva. L'intelligenza emotiva ormai sappiamo essere fondamentale tanto che ultimamente ti faccio una confessione ho saputo che anche nelle istituzioni più serie fanno l'educazione emotiva. Peccato che non chiamino dei veri esperti di educazione emotiva ma questo è un altro discorso. Ok Genna mi sembra di aver capito la differenza tra i due tipi di vagheggiamento mentale però questo significa che devo cercare di non fare mai vagare la mente in modo involontario e fermarla? Ho capito che non devo fermarla ma questa dovrebbe ridursi il vagheggiamento involontario? No significa però che se ti alleni a farlo per un tot di tempo al giorno questo ti aiuterà sotto molti punti di vista tutti quei vantaggi della meditazione di cui parliamo ormai da anni sono poche le tecniche psicologiche tieni a mente questo che si possono usare al momento come se fossero delle formule magiche delle pillole solitamente le abilità psicologiche come tutte le abilità richiedono un esercizio specifico e continuativo quindi evita di cercare di fermare il tuo vagheggiamento mentale di qualsiasi natura esso sia ma limitati ad allenarti a notarlo quando pratichi la meditazione la consapevolezza a casa tua e ad osservarlo quando sei nella tua quotidianità quindi apportare questo tipo di attenzione anche nella tua quotidianità bene spero di averti chiarito la differenza fra questi due tipi di vagheggiamento poi un giorno magari ci concentreremo meglio su come questo vagheggiamento possa essere utile all'interno dell'ipnose ricksoniana piuttosto che della meditazione cosa che ho spiegato bene in MMA nel mio master di meditazione avanzata che ormai è chiuso ti ricordo però c'è una waiting list se ti vuoi iscrivere sono sicuro che questa differenza potrà esserti molto utile soprattutto se sei già un praticante ma soprattutto se ti stai chiedendo in questi anni ma scusa ma è bene far andare avanti la mente non è bene eccetera eccetera spero di averti chiarito puntigliosamente questo aspetto bene proviamo quindi a rendere queste osservazioni dei consigli pratici per cui come al solito bando alle ciance ed iniziamo con i nostri consigli primo pratica la consapevolezza che sia attraverso una serie di esercizi formali oppure informali inizia a praticare un po' di consapevolezza qui su Psynel trovi un manuale gratuito una rubrica gigantesca piena di esercizi gratuiti insomma non hai più scuse mettiti lì prova a farlo ricordati che è un esercizio per cui all'inizio non ti verrà bene se non l'hai mai fatto e ricordati che ci vuole tanto tempo prima di raccogliere i primi risultati all'interno del mio manuale gratuito troverai tutto quindi porta maggiore consapevolezza alle cose che fai cercando non tanto di fermare il tuo pensiero il vagabondare ma semplicemente di notarlo secondo lascia andare letting go impara a lasciare andare il vagheggio il che significa avere la capacità di riconoscerlo e di non inseguirlo quindi non bloccarlo ma evitare di inseguirlo lasciarlo andare come ti dicevo questo meccanismo serve soprattutto per risolvere problemi cioè il vagheggiamento e generare delle nuove idee quando ti sembra che un certo tipo di vagheggio sia troppo presente allenati a riconoscerlo e lasciarlo andare ricordati di evitare il gioco delle sensazioni che troverai nel podcast adibito lo troverai anche nel quaderno degli esercizi ma ti basta scrivere gioco delle sensazioni nel motore di ricerca per capire a cosa mi sto riferendo quindi impara a lasciare andare il vagheggiamento mentale in qualsiasi modo il che significa evita di cercare di risolvere quel pensiero lascialo andare terzo etichetta consapevole se riesci a notare di girare sempre intorno a certi pensieri magari pensieri simili dagli un'etichetta consapevole tempo fa abbiamo parlato di questo esercizio all'apparenza banale ma posso assicurarti molto molto potente se ad esempio il tuo vagheggio si impunta sul criticarti nel dirti non ce la farai bla 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 ogni volta che lo noti potresti dire a te stesso ecco il criticone capito? tu sei lì stai camminando per la strada a un certo punto una vocina ti dice sei uno sfigato e tu gli dì e tu dentro di te non lo devi risolvere ma semplicemente dare una specie di etichetta al volo e dire ecco il criticone semplicemente questo lo noti gli dai un'etichetta di riconoscimento che puoi decidere prima o in quel momento lì un'etichetta che sia leggera non un'etichetta pesante gli dai questa etichetta e poi lo lasci andare non ci devi restare appiccicato altrimenti stai facendo il suo gioco fra virgolette quindi etichetta consapevolmente tutto quello che ti passa per la mente soprattutto se ha un tema comune come ad esempio il criticarti o qualsiasi altro tema comune quindi per mettere questa etichetta potresti fare mente locale su quali sono i pensieri che per la maggiore ti arrivano comunque puoi usare qualsiasi etichetta semplicemente dicendo ecco il pensiero pensiero anche puoi usare l'etichetta senza che sia un'etichetta specifica dicendo solo ecco il pensiero a fuori ad etichettare stai facendo senza saperlo oppure in realtà adesso lo sai stai facendo lo stesso identico esercizio che faresti durante la meditazione notando il pensiero e lasciandolo andare bene come sempre è ovvio che questi consigli potrebbero essere molti ma molti ma molti di più anche perché ci potrebbe essere anche un altro consiglio tipo fai pure del vagheggiamento mentale se vuoi avere delle idee creative perché le idee creative arrivano dal nostro vagheggiamento mentale oppure ad esempio potrei dirti fatti delle domande specifiche no? ad esempio potresti chiedere al tuo inconscio come potrei avere un'idea creativa sulla cosa X so che ti sembra una banalità ma in realtà il nostro computerino interiore è fatto in questo modo non ce la fa proprio a non rispondere fatti delle domande e lasciale lì prova a farti delle domande magari alla mattina come faccio a fare quella cosa X ripetitelo due o tre volte poi lascialo andare vedrai che quel computerino interno quello che ti fa vagheggiare detto in poche parole tenderà con tutto se stesso a darti una risposta a quella cosa lì l'importante è evitare di restare impigliati all'interno di quel vagheggiamento ricordandoci che è solo un modo del nostro cervello per darci degli output per darci una risposta e molte volte queste risposte possono essere pesanti oppure pericolose oppure invischianti quando è così impariamo a lasciarle andare perché noi ti ripeto come ti dico ormai da tempo siamo molto di più di quei singoli pensieri che ci emergono così che vengono fuori dalla nostra mente bene siamo giunti al termine di questa 127esima puntata spero che anche tu come me abbia trovato molto utile questa distinzione tra i due tipi di vagheggiamento se come me ti sei posto delle domande in questi anni durante il tuo percorso di crescita personale sono certo che tu ti sia posto questa specie di dubbio o comunque se non te lo eri ancora a posto stai tranquillo ti sto facendo risparmiare come sempre anni 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 di studi tra virgolette e di sbattimenti ovviamente non mi devi credere vai anche tu a comprare psicologia contemporanea oppure fai una bella ricerca sul mind wandering sul podcast di Psynel ne trovi davvero tanta ne troverai altrettanta all'interno del quaderno degli esercizi di questa settimana bene per oggi è davvero tutto ti auguro una splendida giornata ci sentiamo la prossima settimana un saluto da Gennaro Romagnoli di Psicologia Neurolinguistica punto net Gennaro Romagnoli Gennaro Romagnoli